Ecco come è Visenzio oggi, vedi tutto andato sott'acqua, anche la pista ciclabile, qui siamo al Ponte Francesco di Marco D'Affini a Prato, Dona la Pastellina, questo è l'altro lato del Ponte, come vedete gli argini sono molto grandi, pertanto qui non ci sono tanti problemi, ma qui avanti è molto più stretto, guardate anche gli animali come sono su rispetto negli altri giorni, qui si può vedere già il centro di Prato, col Duomo e il Palazzo del territorio, fa veramente impressione il fiume oggi, ora siamo proprio nel mezzo del fiume sul ponte. Grazie. 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 Grazie.